Per comprendere la povertà dei discepoli dobbiamo comprendere qual è la loro missione, cioè perché Gesù li ha chiamati. Il motivo per cui Gesù li ha chiamati lo sappiamo già dal capitolo 3. Gesù crea il gruppo dei dodici perché stessero con lui e perché cacciassero i demoni, cioè perché fossero partecipi della sua capacità, del suo potere, di creare intorno a lui una specie di vero e proprio campo di grazia. Cioè dove arriva Gesù arriva anche la liberazione dal male, da ogni male, da ogni forma di male. Quindi associata alla predicazione per il regno di Dio c'è la trasformazione del mondo, cioè la trasformazione della vita di colui che accoglie questo messaggio. Quindi non si tratta, lo sappiamo fin dal capitolo 3, quindi lo sappiamo da tutto il Vangelo, lo sappiamo fino a questo momento e in questo momento ce lo conferma, quello che i discepoli sono chiamati a fare non è un'opera di indottrinamento, non è una campagna pubblicitaria in favore di Gesù. Quello che loro sono chiamati a fare è in realtà replicare in maniera attiva ciò che Gesù finora ha fatto e ricevono da Gesù questa possibilità, questo potere, diciamo così. Ora, in che cosa consiste quindi abbiamo detto la missione degli apostoli? Innanzitutto è una missione, cioè sono inviati, non vengono per loro conto, quindi, non avendo loro iniziativa, devono obbedire a certe condizioni. E il Vangelo di Marco sottolinea chiaramente che Gesù diede degli ordini precisi. Li ripassiamo brevemente, cercando di elencarli. Prima di tutto, non li invia da soli, li invia a due a due, li invia a coppie. Perché questo? Perché abbiamo detto che i discepoli devono in qualche modo non soltanto annunciare un messaggio, non soltanto fare da eco e ripetere quello che Gesù ha detto. Il discepolo deve dare testimonianza di ciò che Gesù invita a vivere. Perciò è necessario, per poter replicare la presenza di Gesù, non essere da soli. Non si può da soli essere testimoni del Vangelo. È vero che esistono santi che sono speciali, cioè ci sono individui particolarmente dotati di grazia. Ma anche la loro testimonianza sarebbe inutile, vana o vuota, se non fosse una testimonianza che si accompagna a un'esperienza di comunità, di condivisione. Qui Marco ci sta dicendo una cosa fondamentale. Ciò che replica la presenza di Gesù nell'annuncio, nella missione, quindi nel mondo a qualunque livello, allora come oggi, non è l'individuo, non è il singolo, non è la personalizzazione, non è uno qualunque che si mette a predicare su YouTube e diventa protagonista. Non è così. Bene? Non sono gli individui che comunicano il Vangelo. Per esempio, nel mio caso, io posso aiutarvi a riflettere, no? Ma l'esperienza del Vangelo, quello che veramente lo comunica, è la vita comunitaria nella Chiesa. E quindi non può che essere una testimonianza comunitaria. Cioè, gli apostoli non possono essere da soli. E il minimo, diciamo, per formare un'esperienza di Vangelo, quindi un Vangelo che possa essere riconosciuto e vissuto, il minimo è due persone. Quindi le coppie. Bene? Quindi gli apostoli sono inviati a due a due. Diede loro autorità sugli spiriti impuri. Questo riprende, è il capitolo 3, ciò che Gesù, ciò che sappiamo che Marco aveva detto, cioè il motivo per cui gli apostoli ci sono. Quindi per confrontarsi e dominare tutte le forze ostili al Vangelo. Guardate, questa espressione ha un senso sia metaforico che anche letterale. Cioè, Marco, quando parla di spiriti impuri, crede effettivamente nella presenza di demoni e spiriti come entità. D'accordo? Quindi non è una lettura, diciamo, solo metaforica. Però si può leggere anche in senso metaforico, perché la presenza, diciamo, di questi personaggi che ogni tanto si materializzano, si fa per dire, dentro alcuni individui, i famosi indemoniati, però in realtà sono come dei sintomi di un male più diffuso e profondo che in realtà è il vero problema dell'uomo. Quindi l'identificazione con una realtà spirituale non esclude che si tratti però anche di una grande immagine e metafora sulla lotta tra l'uomo e il male in tutte le sue forme. Allora, che cosa ordina Gesù? Che, tranne il bastone, non prendessero niente per il viaggio. Bene, quindi il viaggio lo fa chi prende il bastone, il viaggiatore. Bene, quindi è la prima indicazione. Cioè, non si va per stare. Quindi gli apostoli sono pellegrini, non sono stabili, sono itineranti. Sono proprio come Gesù, cioè dei predicatori itineranti. Non devono prendere nient'altro oltre il bastone. Quindi il bastone è proprio, diciamo, l'unica cosa necessaria per il viaggio, almeno nel mondo antico. Non devono portare con sé pane, quindi non devono portare provviste, e la bisaccia, in cui di solito si mette il pane. Né denaro nella borsa, ma calzati i sandali. Quindi abbiamo trovato un'altra cosa necessaria, i sandali. I sandali vuol dire che devono camminare tanto, non si può fare tutte queste scarpinate scalzi, il sandalo e i bastoni, e non indossassero due tuniche. Allora, quindi, niente pane, niente bisaccia, niente denaro, sandali, bastone e una sola tunica. Che cosa significa questo? Allora, qui possiamo anche dargli un significato, il primo significato letterale. Cioè, effettivamente, Gesù chiede ai suoi apostoli che vadano nei villaggi col minimo indispensabile, senza fare affidamento su nient'altro che sulla potenza di ciò che essi stessi portano in questi villaggi. cioè, non è tanto la povertà in sé che conta, non è tanto l'assenza del denaro dalle loro tasche, non sono tanto le tasche o le borse vuote che contano in sé, ma è il motivo per cui devono stare così, devono presentarsi così. Il primo motivo, diciamo, quello che è più facile da spiegare, anche quello più intuibile, è che questi apostoli devono essere credibili. Cioè, non devono presentarsi come persone che fanno affidamento sui beni, sul denaro, che rappresenta la possibilità di avere tutti i beni. Bene, quindi il denaro è quel bene che si trasforma in qualunque altra cosa. Quindi è la sicurezza che viene dalla disponibilità, d'accordo, di poter gestire le cose. Quindi i discepoli non devono fare conto su questo, ma per essere credibili devono proprio togliere dalla mente dei loro interlocutori, delle persone alle quali si presentano, persino la possibilità che loro non siano lì per interesse. Cioè, il denaro deve essere proprio fuori dal gioco. Questo non vuol dire però che non debbano ricorrere alle loro necessità, tant'è vero che una cosa sulla quale devono poter contare e non possono fare a meno è l'appoggio e il sostegno delle persone stesse alle quali si rivolgono. Cioè, i discepoli devono presentarsi come persone che non fanno affidamento sulle loro forze, non fanno affidamento sul denaro, non fanno affidamento su loro stesse, su ciò che portano materialmente con sé, ma devono fare affidamento sulla capacità che loro hanno con la loro parola, che è la parola di Gesù, che è la parola del Vangelo, di creare uno scambio di beni lì dove vanno. perché non si può fare a meno dei beni, non si può fare a meno del mangiare, non si può fare a meno di avere un tetto sulla testa, ma tutto questo deve essere donato loro nell'incontro con le loro comunità, cioè nell'incontro con le persone che accoglieranno questo loro annuncio. Cioè loro non sono ricchi se non della parola di Gesù, non sono ricchi se non del potere che a loro ha dato Gesù, perché questa parola è potente, questa parola, abbiamo visto, è capace di trasformare il mondo, c'è proprio un campo quasi fisico di presenza di Gesù, e i discepoli estendono intorno a sé questa potenza, quindi sono efficaci come Gesù, quindi sono capaci anche loro di guarire i malati, sono capaci di partecipare dell'autorità stessa del Vangelo di Gesù, però loro potranno ricevere ogni bene, ma dall'ospitalità, dall'accoglienza, dall'amorevolezza di coloro che li accoglieranno. E' come dire che il bene che loro testimoniano a due a due si deve moltiplicare e quindi diventare il loro stesso, loro stessa fonte di sostentamento, almeno per quanto essi sono chiamati appunto a diffondere il Vangelo. Noi dobbiamo aver presente che tutto questo racconto va a finire alla moltiplicazione dei pani. E' lì che si svela l'unico vero bisogno, d'accordo? Che è appunto lo stare col Signore, avere la sua presenza, avere accesso alla sua potenza. Allora, vedete, anche due miseri pani e due pesci diventano una ricchezza materiale, il pane, che può sfamare una folla. Quindi, capite, sfamare una folla è impensabile poterlo fare col denaro. Quindi c'è qualcosa di più prezioso del denaro, c'è qualcosa di più prezioso del pane, qualcosa che è capace di generare benessere, anche fisico, perché questi vanno a guarire e vanno a sfamare, no? I discepoli stessi saranno mandati da Gesù a sfamare la folla con quei pani e quei pesci messi a disposizione. La povertà della Chiesa, la povertà degli apostoli, la povertà dei testimoni è una povertà in funzione dell'efficacia del messaggio. Loro devono essere totalmente trasparenti a questo annuncio, totalmente trasparenti a questo messaggio, quindi totalmente liberi. E entrare in una casa, rimanere in quella casa ha anche, secondo me, un senso di stabilità, cioè bisogna fa parte della missione degli apostoli creare una rete di rapporti sociali, quindi creare delle famiglie nuove, creare un'intimità, creare delle comunità. E le comunità fanno riferimento di solito a una casa, a un luogo d'incontro, a un luogo dove si dimora, a un luogo dove si condivide. Bene? Quindi non si passa di casa in casa perché, come nel senso proprio di accertare l'ospitalità, perché essi stessi devono diventare centro dell'accoglienza e dell'ospitalità dei villaggi che vanno a visitare. Cioè, in pratica i discepoli sono mandati a due a due per formare nuove comunità, esperienze condivise di vita. Che cosa succede se non c'è questa accoglienza? C'è questo segno molto particolare di scuotersi la polvere dai calzari dei piedi, che è un gesto che gli ebrei facevano quando si allontanavano da un paese vagano. Quindi vuol dire praticamente come dire resettiamo come mettere vedete c'è una mappa dove sono passato dove sono stato accolto ho messo la bandierina immaginiamola così dove non sono stato accolto non posso mettere la bandierina e allora quello significa che mi scuoto la polvere dai calzari ai piedi cioè quel territorio è rimasto un territorio che ancora non ha accolto il Vangelo e forse dopo un primo passaggio vuol dire che è proprio da lì che devo ripassare cioè proprio lì dove non ho messo la bandierina quindi essere considerati appunto come pagani come coloro che non hanno accolto come vedremo alla conclusione del Vangelo perché il Vangelo di Marco si orienterà sempre di più verso la predicazione dei pagani perché lo stesso Vangelo di Marco è stato molto probabilmente scritto con in mente cristiani che non provengono dal giudeismo vuol dire che è proprio da lì ricomincerà la missione dei discepoli proprio lì dove non sono stati accolti quindi scuotere la polvere dei calzari scuotere le scarpe la polvere dei sandali non è un segno necessariamente negativo è semplicemente un segno di demarcazione cioè bisogna essere consapevoli del lavoro che si sta facendo bisogna essere consapevoli di che cosa è successo di cosa ha funzionato e cosa non ha funzionato di chi ci ha accolti e di chi non ci ha accolti perché evidentemente la strategia di un ritorno può essere resa possibile se tu sai quello che stai facendo sei pienamente consapevole appunto del lavoro che stai facendo quindi io non sono per dare un significato del tutto negativo a questa espressione perché la stessa espressione può essere una testimonianza contro di loro o una testimonianza per loro la proposizione greca ci dà tutte e due queste possibilità quindi evidentemente è un segno appunto di demarcazione ma non necessariamente di condanna ecco bene quindi demarcare un territorio non significa che chi sta da lì è perduto no significa che fin lì è arrivato il tuo lavoro e quindi è da lì probabilmente che poi tu devi ricominciare i discepoli vanno proclamavano la conversione quindi proclamavano la necessità di un cambiamento vedete il Vangelo non è essendo proprio il cuore del Vangelo la conversione un cambiamento profondo personale non può essere soltanto una dottrina non può essere soltanto un catechismo non deve essere qualcosa che trasforma allora questa trasformazione è efficace i malati guarivano e i demoni venivano cacciati a questo punto Erode lo viene a sapere e il fatto che lo venga a sapere Erode collega l'efficacia della predicazione di Gesù perché le voci che arrivano a Gesù sono voci su Gesù notate che l'efficacia del lavoro degli apostoli si riconduce sempre a Gesù stesso quindi gli apostoli non prendono del loro ma moltiplicano la presenza di Gesù come se Gesù si trovasse improvvisamente in ogni villaggio della Palestina nel territorio di Erode a quel punto Erode torna a farsi un problema di coscienza non è che qui si sta vendicando il Dio di Giovanni il Battista e allora il racconto del martirio di Giovanni il Battista il racconto di Giovanni il Battista come sapete prepara e annuncia la Pasqua guardate che tutto questo racconto è un annuncio della Pasqua chi è che aveva preso il bastone e si era messo i sandali per partire gli ebrei all'uscita dall'Egitto la notte di Pasqua bastone in mano sandali e piedi devono scappare in un certo senso l'inizio della missione degli apostoli è l'inizio di una nuova Pasqua quella nuova Pasqua che aveva annunciato lo stesso Giovanni il Battista ricordate con la sua predicazione sul Giordano quindi questo viaggio verso questa nuova terra promessa questa nuova trasformazione del mondo della realtà che era stata appunto annunciata da Giovanni il Battista e che prende vita proprio nel momento in cui comincia a prendere vita nel momento in cui la folla viene sfamata da Gesù che è una prefigurazione del banchetto pasquale quindi c'è un contrasto questa è la narrativa di Marco tra il banchetto di Giovanni il Battista quello dove muore il battista il banchetto di Gesù per la folla e poi questa sarà una prefigurazione del banchetto bene dell'Eucaristia nella quale appunto la vittima sacrificale sarà Gesù stesso bene quindi come vedete il racconto di Marco esprime proprio in ogni parola in ogni angolo in ogni dettaglio questo progresso bene verso l'evento fondamentale la Pasqua della morte e risurrezione di Gesù l'annuncio degli apostoli a tutti ai pagani anche a coloro va bene che all'inizio magari hanno appunto rifiutato il Vangelo l'evento